ma che forza come 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 rispetto a due parti 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 dai muoviti cazzarola ti metto su youporn non su youtube non sui non sui non sui non sui converti si 123 Fai quello là adesso visto che è facilissimo Adesso fai quello là che è un po' più alto Questo è facile Fai quello là adesso Aspetta Se lo prendi Non esagerare a casare Qualcuno con la moto sede c'è ancora E che cavolo Non così cazzo Quattalotta Eh che cavolo Fa vedere Fa vedere Dai 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 Ma che lui non riesce a fermarsi E' il secondo come minimo Ciao Leo E l'ho tirata di là E dopo lo sono cazzo fatto E l'ho tirata di là grazie Prova in seconda, è meglio in prima, è meglio in prima, prova in prima, prova in prima, perché secondo e dopo gli scappa via, prima, prova, lo vedi che la controlla meglio, se no gli va via lunga. E il secondo però, quando gli dai, dopo devi chiudere, e lui non la controlla, ma appara anche lui se fai un zippino, finiscila di fare i versi, non prova a fermarti, e allora? E no, se no vedi che viene dappertutto, che cavolo! Quindi, non è una roba così, non è una roba così strana, madonna, devi solo avere gente che ti spiega, lo fai uguale, basta, madonna, poi ti metti a fare quattro turbette, impari a fare i pesi, basta! Oh, ma la volete cambiare sta zona o niente? No, no, così eh!